Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi andiamo a sostituire le zappe derrade, ma ci sono veramente tante cose interessanti da dire. Partiamo già col fatto che proverò tre diversi tipi di zappa. Nel vlog della prima passata che vi lascio qua in alto a destra, dissi che le zappe avevano qualche problemino di usura troppo accelerata a mio parere. Allora cosa ho fatto? Ho contattato direttamente Rabe in Germania, mi sono fatto spedire le zappe nuove e oltretutto sono andato su un nuovo produttore di zappe molto molto particolari che adesso vi andrò a raccontare. Partiamo con questi tre tipi e ve li illustro. Il primo tipo è una zappa semplicissima con il loro materiale che solitamente è sempre stato molto buono, ma comunque voglio appunto usare una zappa normale per metterla a confronto con questi due tipi diversi e speciali di zappe. Poi abbiamo lo stesso tipo di zappa, sempre entrambe prodotte da Rabe, ma con un riporto in un materiale chiamato PlasmaBid. È un materiale durissimo che viene applicato a spruzzo, diciamo a caldo e conferisce un grado di resistenza altissima dove è presente appunto questo materiale. Quindi la zappa affronterà il terreno in questa maniera e qua dove trova molto un materiale molto duro si dovrebbe usurare molto molto più lentamente. E dopo abbiamo la gioielleria agricola ragazzi, perché questa qua è roba veramente speciale, non vi dico il costo. Intanto vi faccio solo notare lo spessore di differenza. Zappa originale PlasmaBid, zappa speciale. Allora vi lascio tutte le info in descrizione per i più curiosi. Intanto potete notare già lo spessore e soprattutto, non so i più esperti l'avranno già notato, ci sono delle placchette. Placchette in materiale extra duro Vidia. Il Vidia è uno dei materiali più duri in circolazione. Comunque potete già vedere ecco la fattura totalmente diversa, lo spigolo vivo perfetto, tutto perfettamente allineato, i fori sembrano fresati, invece qua sono battuti a caldo. Insomma è una zappa speciale, costa un sacco. Ho preso un kit, insomma un set per coprire un'ancora, quindi laterale più laterale e centrale, che dopo vi farò vedere, per metterla a confronto con zappa speciale, zappa originale in PlasmaBid e zappa originale normale. Appunto quello che può interessarvi è che adesso io lavorerò, mi segnerò tutti i dati, ettari, non ettari e così via, e dopo ci vedremo probabilmente il prossimo anno quando l'avrò usate per bene e farò e darò appunto un verdetto finale. Farò un po' di calcoli, vedrò se queste qua con il costo praticamente triplo a questa valgono la pena, insomma valgono la spesa. Questa zappa costa quattro volte tanto questa, ma se mi dura cinque volte tanto, solo il risparmio di tempo che c'è nel sostituire quattro di queste, praticamente è già tutto di guadagnato per questa. È un discorso un po' contorto che magari affronteremo quando vi darò il verdetto, ma oggi dobbiamo soffermarci ad analizzarle e montarle. Poi vi parlo anche di vomeri centrali, vomeri a doppio cuore o zappa a doppio cuore vengono chiamate. Qua abbiamo le due originali rabe, come prima, una normale, l'altra con riporto in PlasmaBid da entrambe le parti, perché queste qua ragazzi si possono prima utilizzare sotto, poi girarle e utilizzarle sopra, insomma si possono girare e invertire. Poi abbiamo qua un altro gioiellino della stessa serie di queste appunto, di queste qua. Questo appunto è il vomer centrale con sempre i riporti con delle placchette saldo-brasate in materiale extra duro vidia e appunto un materiale superiore in teoria. Fanno parte appunto dello stesso set. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a montare un'ancora con due di queste e una di queste, poi andremo a montare un'altra ancora con il set in PlasmaBid e poi tutte le altre con quelle normali. Ovviamente per questa prova ho investito un po' ma non ho detto proviamo e quindi mettiamo su tutte queste. Prima voglio provare e se diciamo la spesa vale dopo andrò a sostituire tutto con queste. Spero veramente vivamente di sorprendermi ma insomma è un percorso che dobbiamo fare insieme e che vedrete fra un po'. Per segnarmi tutti i dati riguardo il test utilizzerò la mia solita app Xfarm che vi lascio in descrizione. Utilizzandola appunto per segnare tutte le lavorazioni nei video mi avete chiesto in tanti facci vedere le potenzialità, facci vedere le funzioni e appunto oggi vi parlo di una funzione molto molto interessante che è quella di registrazione degli eventi riguardanti attrezzi e trattrici e quella dei magazzini. Creare un magazzino è molto semplice, si fa più un nuovo magazzino e si crea un magazzino agrofarmaci, ricambio e così via. Oggi andiamo a parlare di quello ricambi. Si possono aggiungere i prodotti tramite il nuovo prodotto e si possono appunto fare dei movimenti quindi carico e scarico tramite nuovo movimento. In questo caso io devo andare a dire che vado a utilizzare tutte e tre le zappe di questo tipo che appunto sono nel magazzino segnate come tre unità. Devo fare il nuovo movimento, magazzino, ricambi, poi prodotto, zappe, quelle lì appunto ho segnato con un nome del marchio, dopo tipo utilizzo perché appunto le andiamo utilizzare, la data, la quantità, tutte e tre appunto per il set che ho acquistato e poi aggiungi. Bene, l'inserimento è venuto con successo. Ok, perfetto. Andando indietro appunto non ne ho più, zero unità. Una cosa molto interessante che mi serve a registrare tutti i dati e anche per voi se la utilizzate, se la utilizzerete per tenere d'occhio e segnarvi tutti i cambi olio, manutenzione degli attrezzi e così via, è una funzione che si trova in macchinari appunto premendo su altro poi macchinari. Andate sul vostro macchinario, in questo caso il mio Rabe, qua lasciate stare la foto ma devo, è una foto di default per indicare che è un erpice ma adesso andrò a fotografare tutti i miei attrezzi perché appunto potete mettere le foto di quello che volete. Io devo andare qua su aggiunge attività, tipo, mettiamo usura, o retrattore 1490 perché lo utilizzo solo sul John Deere, descrizione, sostituzione, zappe. Pezzi sostituiti, in questo caso andrò a fare il conteggio di tutte le zappe ma per farvi vedere ne metto tre, dopo lo andrò a sistemare bene e qua posso mettere le ore lavorate, il costo totale, chi l'ha fatto e così via e faccio aggiungi. Bene, noi adesso andando sul nostro estirpatore possiamo vedere tutti gli eventi appunto accaduti a questa macchina, sostituzione, manutenzioni, rotture e così via. Veramente molto molto ben fatto, ve la consiglio, io la sto utilizzando da tanto, mi piace e sto gestendo veramente in maniera efficiente la mia azienda perché quando non vi ricordate qualcosa, ah ma c'ho ancora quel pezzo di ricambio in magazzino ma mi sono ricordato ad acquistarlo, avete tutto qua a portata praticamente di palmo tramite l'applicazione. Ho già parlato abbastanza e possiamo subito andare a montarle appunto che penso sia il pezzo che vi interessa di più però so che mi seguono tanti agricoltori e quindi ho detto delle cose che a mio parere possono esservi molto molto utili e insomma pratiche nella gestione di queste aziende agricole che sono molto difficili da gestire e ci sono un sacco di problemi e rotture di scatole. Detto questo, la troveremo questo supportino che su tutte le ancore, questo qua l'ho preso di ricambio in caso succedesse qualcosa però è tanto per farvi vedere. Qua c'è la zappa centrale che viene tenuta ferma da una vite, anch'essa speciale, testa svasata, piana, quadra appunto per non girare, marchiata a 12.9 come grado di resistenza. Diciamo che una volta inserita questa vite con bullone altrettanto resistente tiene fermo sia zappa, supporto e attacca tutto all'ancora dell'estirpatore. Dopo lateralmente, con una volta tutto fissato, ci sono le zappe che appunto si attaccano qua, lateralmente, qui così e salta fuori quello che poi vediamo sull'attrezzo. Ma direi che è meglio vederlo là e andiamo subito a montare queste fantastiche zappe. Ce n'è di terra attaccata tutto il bagnato. Iscriviti al canale Cosa? Cosa? Eccoci qua in campo con le zappe nuove, tutte montate, tutte pronte e già usate per una cinquantina di ettari perché dovevo finire la terza passata, diciamo che le zappe le ho cambiate tra una pioggia e l'altra, insomma avevo iniziato a fare la terza passata, mi lascio il video qua in alto a destra, è piovuto ancora, ho cambiato le zappe e dopo sono tornato appunto a lavorare la terra e è parecchio, ancora parecchio umida, insomma si fa appena tempo a lavorarla senza sfondarsi, senza fare troppi danni. Allora 50 ettari, adesso scendiamo in modo tale che posso farvi vedere la condizione, vi dico che essendo più lunghe, essendo nuove, più appuntite e così via il trattore sforza veramente tanto. Eccoci qua in fondo, qua adesso faccio un po' di retromarche alzando in modo tale che si puliscono, eh figurati se si puliscono, vabbè le pulisco a mano e ve le faccio vedere. Guardate che bel terreno leggero, con poca argilla, poco plastico e non gommoso. Allora partiamo da questa zappa qua, che è quella con i riporti in materiale duro e dopo una cinquantina di ettari i loghi sopra le placchette, sopra le zappe in rilievo sono ancora lì, la zappa è appena scalfita, ha ancora il colore di quando era nuova e è appena appena scalfita da qualche sassolino ed è appena appena lucida, quindi diciamo che si può dire che è ancora nuova dopo cinquanta ettari. Poi le zappe che è questa qua, con il riporto originali, con il riporto estraduro, sono ancora molto molto buone e poi passiamo alle normali, che sono queste qua, che vi devo dire che non comprandole più da un rivenditore, ma avendole ordinate direttamente in Germania, sembrano costruite già meglio, ragazzi, cioè sembrano già di un materiale più duro. bisogna dire che adesso sono nell'umido e quindi si usurano di meno, però posso assicurarvi che ricordandomi, insomma, confrontando le zappe precedenti, che avevo qualche dubbio fossero originali, nonostante spacciate per originali e così via, di cui avevo parlato nella prima passata e devo dire che nelle stesse condizioni di bagnato si stanno comportando meglio queste qua, per non parlare di quella la che è costata, fin per carità quel che è costato, però si sta comportando in maniera egregia e comunque, ragazzi, niente, io sull'APX Farm mi sono segnato le misure da dente a dente, la larghezza, la lunghezza, la profondità, tutte le misure, le ore, vi sto segnando ettari ora che sto facendo con queste zappe, il prossimo anno ci vedremo con un confronto ben fatto dicendovi, guardate, quelle normali e originali sono durate così, quelle con riporto extra duro sono durate tot e quelle speciali sono durate altrettanto o meno, insomma, vedremo e poi ovviamente vi darò due o tre conti analizzando anche le zappe che avevo in precedenza, che pensavo fossero gli originali, magari lo erano, magari però erano di qualità peggiore, non lo so, appunto comunque ho tutti i calcoli degli ettari che si possono fare con un set di zappe. Allora, diciamo che appunto è un confronto molto interessante, me l'avete chiesto in tanti, ma soprattutto in primis l'avrei fatto comunque anche senza video perché sia coi diserbi, coi trattamenti che con queste cose sono sempre solito fare un sacco di test e prove per poi fare la scelta migliore. Ma detto questo, io ragazzi devo ringraziare i miei Patreon, i miei supporter del canale, li ringrazio e li saluto, veramente un caro saluto, hanno donato, stanno supportando il canale e sono Francesco, Boris, Simone, Piero, Emma, Michael, Andrea e Luca. Non me ne sono dimenticato nessuno, sono sicuro perché ho appena guardato nel nostro gruppo Telegram appunto perché con loro ho un gruppo Telegram privato su cui parliamo, chiacchieriamo del più del meno e appunto aiutando il canale è uno dei bonus che vi do. Comunque li saluto e li ringrazio veramente tanto. Bene, io direi che il video può finire qua perché non non so neanche quanto sia durato perché comunque ho tagliato tante parti nel montaggio, devo ancora montarlo, ma nel montaggio delle zappe, scusate il gioco di parole, taglierò sicuramente tanti tanti pezzi per non annoiarvi. Niente, io vi saluto e vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram, link in descrizione. E niente, detto questo direi che il video può finire qua, vi saluto e vi ringrazio nuovamente e noi ci vediamo nel prossimo Trattor Vlog. . . . Grazie a tutti.